Sono Gilberto Vannucci, riminese, lavoro ad ERA dal 2001, sono responsabile impianti di tutta la provincia di Rimini. La realtà la conosco da quando sono bambino e soprattutto ci tengo alla mia città. Il nostro mestiere lo facciamo bene quando gli altri non parlano di noi. Alla fine il cittadino vuole solamente una cosa, che vada tutto bene, che possa continuare a vivere la spiaggia e a fare il bagno. Detto così sembra una cosa facilissima. In realtà dietro c'è un mondo di esperienze, di lavori, di strutture ed è questa la nostra sfida.